E' martedì 21 aprile, martedì della seconda settimana di Pasqua. E in questa seconda settimana di Pasqua, la liturgia ci propone come Vangelo del Giorno, almeno nei primi quattro giorni di questa settimana, la lettura del terzo capitolo del Vangelo di Giovanni, che oggi leggiamo dal versetto 7 al versetto 15. Ecco il Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo «Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodemo «Come può accadere questo?» Gli rispose Gesù «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». Un Vangelo niente male, un Vangelo anche abbastanza complesso, parecchio complesso. Siamo veramente in uno dei vertici della letteratura giovannea, cioè del Vangelo di Giovanni, nel quale Giovanni si esprime in maniera evidente in tutto questo dialogo, incontro, scontro, fra elementi che di per sé in natura e razionalmente sarebbero inconciliabili. Alto, basso, qua giù, lassù, cielo, terra, spirito, carne, questi opposti che, scontrandosi in un certo senso, si incontrano dandoci la cifra del reale. Vi spiego meglio. Nicodemo era un personaggio particolare, l'abbiamo incontrato già ieri. Nicodemo era uno, un fariseo, un dottore della legge, insomma uno che era ben inserito nell'entourage del Sinedrio, che era l'organismo di controllo politico e religioso, di potere politico e religioso nell'Israele del tempo del Signore. Quindi Nicodemo era uno che contava, uno che di per sé avrebbe avuto tutte le ragioni per accontentarsi della sua vita e non andare a cercare altro. Nicodemo non si accontenta. Nicodemo va alla ricerca del Signore perché probabilmente era alla ricerca di se stesso. E ci va di notte, dice Giovanni, l'abbiamo ascoltato ieri, e questo di notte non è riferimento solo alla notte del cielo, ma alla notte dell'anima, nella quale probabilmente si trovava lo stesso Nicodemo. Quel Nicodemo che probabilmente si pone le domande esistenziali che ci poniamo noi stessi, tutti noi. Com'è possibile, com'è possibile conciliare la finitezza della nostra vita con l'eternità di Dio alla quale Egli ci chiama? Com'è possibile conciliare la realtà di male che tante volte noi stessi viviamo e di cui tante volte noi stessi ne subiamo le conseguenze di questo male con quell'amore di Dio che invece ci viene testimoniato dal Vangelo di Gesù Cristo? Questo Dio che si propone come un Dio che tutto ama, come un Dio che perdona, come un Dio che vuole il nostro bene e invece, soprattutto in questo tempo, ci scontriamo con questa realtà di male diffuso intorno a noi che supera tante volte probabilmente le nostre responsabilità. Questa è la notte dell'anima che tante volte attanaglia, come a Nicodemo, anche ciascuno di noi. E allora il Signore, vedete qui in questa pagina del Vangelo, si propone come mediatore fra gli inconciliabili elementi della nostra realtà, come mediatore fra gli opposti inconciliabili, come mediatore fra cielo e terra, come mediatore fra le cose di lassù e le cose di quaggiù, come mediatore fra carne e spirito. E come si propone il Signore? Con una metafora. Qui usa in questa pagina del Vangelo una metafora presa dall'Antico Testamento, dal Libro dei Numeri, un episodio che narra come Mosè per salvare il popolo di Israele durante il suo esodo nel deserto, dal morso di serpenti velenosi, innalzò un serpente metallico su un palo di legno nel deserto, e narra appunto il Libro dei Numeri, chiunque veniva morso da questi serpenti velenosi, guardando a questo serpente, volgendo lo sguardo a questo serpente metallico innalzato su un palo nel deserto, egli aveva salva la vita. E' un'allusione, chiaramente, a Gesù, che innalzato su un altro palo, il palo della croce, anche egli diventa, volgendo lo sguardo del nostro cuore a Lui, elemento di salvezza, elemento di vita, che ci guarisce dalla paura della finitezza, dalla paura della morte, dalla paura del male, perché diventa con questo palo innalzato nel deserto della nostra vita il Mediatore fra cielo e terra. Conoscere, conoscere la realtà di Dio, conoscere la realtà del Signore, significa conoscere noi stessi. E guardate, non è possibile, chiaramente, arrivare ad una piena conoscenza della realtà di Dio finché siamo su questa terra, finché siamo in questa vita, ma è da questa vita che inizia la conoscenza dell'amore di Dio e quindi la conoscenza di se stessi. Per vivere meglio con se stessi, fratelli miei, per vivere riconciliati con se stessi, con la nostra realtà, con quello che siamo, con quello che viviamo e con le relazioni che abbiamo, la conoscenza di Dio, l'inizio della conoscenza di Dio su questa terra cambia qualitativamente la nostra vita, la nostra visione della vita. È questa la bellezza di una fede vera, di una fede nello Spirito che nasce dall'alto, come dice il Signore in questa pagina di Vangelo. cambia letteralmente, non ci toglie le difficoltà, non ci toglie le sofferenze, non ci toglie i pesi di questa vita, ma cambia, cambia quella che è la prospettiva che altrimenti sarebbe notte, come Nicodemo in questa fase, una notte che è il limite di per sé, umanamente invalicabile, della nostra finitezza umana, della nostra morte. Gesù va oltre, Gesù va oltre il male, va oltre la morte e da questa vita ci insegna a conoscere noi stessi alla luce dell'amore di Dio. Ebbene, oggi è la memoria di un santo al quale sono molto affezionato, Sant'Anselmo d'Aosta, un grande monaco, vescovo, pastore, dottore della Chiesa e teologo dell'undicesimo secolo. Anselmo è uno di quelli che riprende l'assioma agostiniano del credo ut intelligam, credo per capire, credo per conoscere. E quello che abbiamo appena detto lo sintetizza in una pagina bellissima del suo proslogion, che ora vi leggo e con la quale vi lascio. Ti prego, Dio, fa che io ti conosca, ti ami, per godere di te. E se non lo posso pienamente in questa vita, che io avanzi almeno di giorno in giorno fino a quando giunga alla pienezza. Cresca qui la mia conoscenza di te e diventi piena nell'altra vita. Cresca il tuo amore e un giorno divenga perfetto perché la mia gioia sia grande qui nella speranza e completa mediante il possesso definitivo nel futuro. una buona giornata.